Cronaca è un incidente mortale che è avvenuto questa mattina sulla Statale 17 nel territorio del comune di San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila. Due auto si sono scontrate frontalmente, un uomo che viaggiava a bordo di una lancia libra ha perso la vita e due persone che erano sull'altra auto sono state ricoverate all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in gravi condizioni. Tutti gli aggiornamenti sul sito internet reteotto.it